Ma è vero che più tempo dedico al trading e più ore durante la giornata faccio trading e maggiore sono i guadagni che posso portarmi a casa? Ciao, sono Marco Casario, benvenuto a questo nuovo video e oggi voglio un po' sfatare un mito. Mi aggancio ad un commento che mi è stato lasciato qualche giorno fa da un utente che frequenta il canale YouTube, che dedico al trading, in cui mi domandava proprio se è vero che se effettivamente aumentando le ore di trading e quindi di operatività che viene fatta sui mercati finanziari è matematicamente certo che aumenti anche i profitti e quindi il concetto è un po' quello di diventare un trader che fa day trading, ovvero trading intraday all'interno della giornata. Io gli ho risposto nel commento con un paio di considerazioni che voglio anche andare a condividere qui con voi in questo video, anzi da subito ti chiedo di lasciarmi dei commenti, di dirmi se la pensi come me, se invece la pensi diversamente, di raccontarmi la tua esperienza. Io ti racconterò la mia perché inizialmente quando tanti tanti anni fa iniziai a fare trading, anch'io volevo diventare un trader professionista che passava ore e ore davanti al monitor perché pensavo anch'io che più ore dedicavo all'attività e maggiori erano i guadagni. Purtroppo per quanto riguarda la mia esperienza ha funzionato diversamente, anzi oggi la mia attività di trading è completamente lontana e distante da quello che è l'intraday, ovvero il day trading, perché io oggi dedico pochissimi minuti al giorno al trading, che è una delle mie attività che mi genera entrate mensili e annuali, e anzi le mie strategie, quelle che insegno anche al corso, sono proprio pensate per dedicare il minor tempo possibile al trading, in modo tale che durante la giornata posso dedicarmi ad altro. Ma veniamo alle considerazioni che voglio condividere con voi sull'aspetto, sulla prima domanda iniziale di questo video. Quando avete una strategia che è stata testata nel tempo, e quindi siete andati a vedere negli anni precedenti, nei 5, 10, 15 anni precedenti, quali sono state le performance che quella strategia con quelle regole di ingresso e di uscita ha apportato in termini di guadagni, e quindi che potete cominciare ad utilizzare nella vostra attività di trading. Bene, quella strategia ovviamente è stata testata su un determinato time frame e produce quei risultati in base anche alla media dei trade che vengono fatti in un anno. Vi faccio un esempio, immaginate che la vostra strategia è una strategia che avete testato su time frame orario, quindi su un time frame, immaginiamoci time frame a 4 ore. Bene, questo in un anno fa una media di 200 operazioni l'anno, e poi produce delle performance e così via, senza adesso andare a parlare di profit factor, di striscia negativa, di drawdown massimo, drawdown relativo, eccetera. Fermiamoci a questo aspetto, time frame e numero di operazioni l'anno. Bene, se voi prendete quella strategia che magari produce risultati positivi, magari a fine anno, quella strategia vi fa, solo quella strategia vi fa una performance media del, diciamo, del 15%, ok? Voi potreste pensare, bene, se io invece di fare 200 operazioni, abbasso il time frame e ne faccio il triplo, ovviamente mi porto a casa il triplo delle performance, quindi invece di portarmi a casa il 15% di guadagno, mi porto a casa il 45% di guadagno. Bene, ragazzi, non funziona affatto così. Se pensate questo, purtroppo state commettendo un errore, perché se quella strategia è pensata per funzionare su quel time frame e per dare quella performance in base a quella media di numeri di trade, di operazioni l'anno, non è che aumentando il numero di operazioni aumentate le performance, anzi, il più delle volte quello che fate è che le peggiorate le performance. Quindi la prima questione è se dovete testare la vostra strategia sul time frame su cui poi quella strategia deve operare. Quindi non potete prendere una strategia che sarà pensata per il settimanale, strategie di analisi tecnica, strategie tendenziali, di direzione, prenderla e lavorarla sul time frame a 5 minuti, facendo più operazioni e sperando di aumentare le performance, perché sicuramente farete un disastro. Quindi la prima cosa a cui dovete stare attenti è questa. Seconda questione, il tempo. Fare dei trading, quindi fare dei trading intraday durante la giornata, vuol dire che tutti i santi giorni della settimana, ogni volta che il mercato è aperto, dovete fare trading. Dovete fare trading, e non solo dovete fare trading, ma dovete dedicare almeno 2 o 3 ore al trading. Chi lavora sul time frame a 5 minuti, a un quarto d'ora, ma anche sul time frame H1, quindi orari, deve dedicare parecchio tempo davanti al monitor. Quindi quel tempo ce lo dovete avere e dovete stare tutti i giorni davanti al monitor. Perché tutti i giorni? Perché voi di una strategia conoscete le performance a fine anno, ma non conoscete la distribuzione delle vincite rispetto alle perdite. Cioè non è detto che voi un giorno perdete, il giorno dopo vincete, poi il giorno dopo riperdete, il giorno dopo vincete, oppure un mese vincete e un mese perdete. Non funziona così. La vostra strategia potrebbe anche per 3 mesi di seguito andare in perdita e poi recuperare il mese successivo, al quarto mese. Bene, se voi cominciate a saltare dei giorni perché avete altri impegni, impegni familiari, perché c'è il lavoro, perché state male per due settimane e non potete fare trading, il rischio grande facendo intraday e day trading è che sballate completamente le statistiche che vi danno quel risultato che avete testato nel tempo. Perché magari quei 15 giorni che saltate perché state in vacanza e non fate trading sarebbero stati i giorni in cui avreste recuperato una perdita e a fine anno quella performance non ce la avrete. Quindi tenete bene in considerazione questo se volete veramente diventare dei trader intraday che fanno trading, day trading. Perché poi vuol dire che quello diventa un lavoro. E questo è il terzo punto. Se diventa un lavoro, io voglio lo stipendio. Cioè voglio essere pagato perché sto scambiando il mio tempo e quindi voglio dei soldi. Giusto? Ecco, è normale, voi non lavorereste mai per un'azienda anche fosse la vostra azienda senza avere uno stipendio in cambio o una retribuzione economica. È identico con il trading. Se voi tutti i giorni dedicate 3-4 ore al giorno al trading ma voi non volete tirarci fuori un'entrata costante tutti i mesi? Accettereste di per 3 o 4 mesi di non guadagnare nulla e comunque essere costretti a lavorarci tutti quanti i santi giorni? Io non l'accetterai mai motivo per cui a me non piace fare dei trading perché poi non voglio crearmi l'aspettativa di dover avere una retribuzione fissa mensile. Questa è un'aspettativa che è una sicurezza che il trading non vi può dare. Smettete di credere a chi vi dice fate trading per vivere e tutti i mesi farete il 5%. Non esiste una garanzia del genere. Ci saranno i mesi in cui perderete e poi magari ci saranno i mesi in cui andrete a recuperare ovviamente le perdite e stare utilizzando una strategia robusta e solida. Ma nessuno vi dà la certezza ogni mese di tirarci fuori lo stipendio. Non solo il tempo che dedicate al trading non lo dedicate a qualche altra attività. Motivo per cui io voglio avere diversificare le mie entrate mensili e annuali e avere più business a cui dedicarmi. Business per i quali non scambio il mio tempo per soldi ma che sono scalabili e quindi quello che posso guadagnare dei business non è direttamente legato al mio tempo. Ecco perché le mie strategie che insegno al corso di trading sono strategie che mi permettono di dedicare pochi minuti al giorno perché io nella giornata faccio tantissime altre cose oltre ovviamente a voler avere anche il tempo libero per diciamo dedicarmi alle mie passioni. Quindi questo è un altro aspetto che dovete tenere in considerazione. Ultimo aspetto e qui chiudo e come al solito se questo video vi piace ragazzi mettetemi un like se questi argomenti meno tecnici vi piacciono mettetemi un like sul video in modo tale che vedo che argomentazioni di questo tipo vengono apprezzate e continuo a fare video di questo tipo lasciatemi un like qui sotto e condividetemi anche la vostra esperienza sono curioso di sapere come la pensate non necessariamente la mia esperienza deve essere la vostra esperienza io vi riporto la mia esperienza ditemi qual è la vostra ultimo punto riguarda il fatto che nel trading essendo voi esseri umani a dover fare delle operazioni ci sono degli errori ci saranno farete sempre degli errori io nella mia attività di trading ho fatto qualsiasi tipo di errore e ogni tanto mi capita ancora di fare piccoli errori errori dovuti a distrazione magari fate un'operazione in un ambiente che non è diciamo tranquillo ci sono molti rumori quindi potreste sbagliare errori dati da la piattaforma che in quel momento ancora non padroneggiate bene insomma si dice che il 20% delle operazioni che vengono fatte sono operazioni per le quali un trader commette degli errori di natura umana anche errori stupidi ovviamente più fate trading più a lungo fate trading durante la giornata maggiore è la probabilità di commettere errori anche perché la concentrazione poi scende e il trading richiede enorme concentrazione più state davanti al monitor e la concentrazione ovviamente diminuisce e quindi aumenta la probabilità di errore attenzione ragazzi a queste cose tenetele bene in considerazione se state pensando di diventare dei trader professionisti che fanno trading intraday ok e infine per concludere la mia esperienza io quello che vi posso dire è che per la mia esperienza da quando ho cominciato a dedicare meno tempo al trading e da quando ho cominciato ad applicare le strategie che mi sono creato per diciamo permettermi di dedicare meno tempo al trading ho cominciato ad aumentare le mie performance e i miei guadagni quindi vale un po' il concetto che in inglese si chiama less is more cioè meno è meglio e per me ha funzionato bene ragazzi grazie mille per l'attenzione come al solito vi auguro una fantastica giornata buon trading a tutti ciao